Affrontare il Brighton occidentale non è stata una cosa, una passeggiata semplice, però è stata interessante e costruttiva per conoscere degli aspetti della sicurezza in ghiacciaio che non conoscevo ed è stato trasformato in maniera tale, in campo, in maniera tale che possa essere condiviso con altre persone, non solo disabili ma anche persone normodottate. Il Brighton Open 2021 si è sviluppato in due giorni. Il primo giorno siamo partiti da Braille Cervinia e abbiamo raggiunto il plateau Rosà dove abbiamo prenotato nel rifugio delle guide del Cervino. Dopodiché siamo partiti giorno dopo per affrontare la salita al Brighton occidentale e per fortuna abbiamo avuto anche il tempo dalla nostra parte. Le guide del Cervino ci hanno insegnato sul riconoscere sulla neve i crepacci con dei test usando anche noi come attori.